Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città Partiamo immediatamente, vi portiamo in Duomo con l'emozione per i nuovi 17 preti ambrosiani Siate uomini spirituali dal cuore di carne, uomini giusti Il cardinale Tettamanzi ordina i nuovi 17 sacerdoti della diocesi di Milano Qui si aggiungono tre religiosi, due carmelitani e un francescano dell'ordine dei fratti minori E nel Duomo, che pare non riuscire a contenere oltre 8000 fedeli in festa La celebrazione, aperta dai riti lucernari, perché siamo nella liturgia vigiliare vespertina della festa di Pentecoste Vive di una suggestione e solennità particolari Nella ricchezza della parola di Dio che viene annunciata Seguita da quell'ecomi, dal silovoglio dei candidati 2011 Che hanno età diverse, dai 25 ai quasi 50 anni Storie differenti alle spalle Qualcuno è già ingegnere, farmacista, avvocato Come guardandoli negli occhi a uno a uno, a tutti L'arcivescovo chiede di essere servi umili Che sanno lottare contro il peccato grande dell'orgoglio e le idolatrie del mondo Il vostro ministero non si iscrive forse in un tempo di passioni tristi Di visioni miopi e di comunità affaticate Rimanete dunque in questa forza di vita Apritevi ad essa nella fede Lasciatevi attirare, ispirare, condurre da questa energia di grazia Sarete così profeti di gioia Generatori di nuova vita Da qui la speranza e l'auspicio Che siate uomini spirituali Capaci di proclamare il primato di Dio Perché conquistati dalla croce del suo figlio Che siate uomini dal cuore di carne Liberi da voi stessi Per annunciare ai piccoli e ai poveri La passione d'amore di Cristo Che siate uomini dell'interiorità Amanti del silenzio E che conoscono le profondità del cuore E la gioia della contemplazione Che siate uomini giusti Che in spirito di costante conversione Si mantengono sotto il giudizio dell'amore di Dio Sanno lottare contro le idolatrie del mondo E il grande peccato dell'orgoglio Poi i gesti che sono il simbolo vivo Dell'ordinazione presbiterale Le litanie L'imposizione delle mani nel silenzio La vestizione dei paramenti L'unzione con il sacro crisma Lo scambio della pace Anche con mamma e papà Emozionatissimi Una chiesa insomma in preghiera e nella gioia Che infine dopo gli adempimenti Anch'essi festosi In casa dell'arcivescovo stesso Continua sul sagrato Tra la folla Bene per completezza dell'informazione Voglio dirvi che A conclusione della celebrazione in Duomo Il cardinale ha promulgato Il nuovo evangelio Ambrosiano Ma ne parleremo E allora per noi La segnalazione di un altro grande evento di chiesa Perché giovedì 23 giugno Dalle ore 20 Presso il santuario di Santa Maria dei Miracoli A San Celso In Corso Italia 37 A Milano naturalmente Si svolgerà la celebrazione e processione eucaristica Diocesana Del Corpus Domini Presieduta dal cardinale Tettamanzi L'arrivo è previsto in Duomo E ora cambiamo argomento Con un'intervista Perché tra un anno esatto Più o meno Avremo a Milano Il settimo incontro mondiale Delle famiglie Esce proprio in questi giorni Il volume che raccoglie Le dieci catechesi preparatorie Sentiamo di che cosa si tratta Le dieci catechesi Svolgono il tema Che il Papa Ha affidato Al settimo incontro mondiale Per le famiglie Che si terrà Il fine maggio Del 2012 Inizio giugno Il tema è La famiglia Il lavoro E la festa Ora questo tema È stato pensato E declinato In modo tale Che il rapporto Tra la famiglia La società La famiglia Che si apre La società E la società Che influisce Sulla famiglia Trovi i suoi Due grandi momenti Di riflessione Di verifica Di rapporto Anche con i problemi Della società Del vivere sociale Civile Esattamente Nell'alternanza O meglio Nella relazione Tra lavoro e festa Il lavoro È inteso Come il luogo Dove la famiglia Appunto Si apre al mondo Sostiene i suoi Processi Di sostentamento Di economici E dove però Anche il mondo Influisce sulla famiglia Soprattutto sul tema Del futuro Del lavoro Per i giovani Delle donne E la festa E dall'altra parte Vedere appunto Come la festa Non è solo L'intervallo Tra due fatiche Il momento In cui sospendiamo Il lavoro Ma è il compimento Del tempo feriale Anzi è il senso Che ritorna poi Sul tempo feriale Perché non sia solo Un luogo Dove l'uomo Si esprime Come soggetto Di produzione Di bisogni Di conquista Di calcolo Ma diventi anche Il luogo Dove l'uomo Celebra il suo Essere capace Di relazioni Di festa Di attenzione Di ascolto Di vicinanza Di prossimità Abbiamo ascoltato Monsignor Franco Giulio Brambilla Che non è solo Vescovo Ausiliare Vicario Episcopale Per la cultura Della nostra diocesi Ma è anche Il coordinatore Del gruppo di lavoro Che ha stilato Le catechesi Quindi Chi meglio di lui E adesso Per noi Ancora Una segnalazione Perché Per accedere Alla piazza Del duomo Il giorno 26 giugno Il giorno Delle beatificazioni Solenni Occorre unirsi Di biglietto Naturalmente Il biglietto È totalmente Gratuito Ma dovrete Prenotarvi A beatificazione Chiocciola Diocesi Punto Milano Punto It E Milano Abbiamo detto Sarà il luogo Dell'incontro mondiale Delle famiglie Forse davvero Non c'è una città Migliore Perché Lo scopriamo insieme Andando a San Lorenzo In Mollue Alle porte di Milano Una Milano In miniatura Fatta di colori E di religioni diverse Di tante parti del mondo Che si ritrovano Di tradizioni e storie Che vogliono dialogare Tra loro È la festa delle genti Significativamente Nel giorno di Pentecoste Che riunisce in unità Attraverso appunto La diversità E i prati di San Lorenzo In Mollue Al Forlanini Così si riempiono Anche per il venticinquesimo Dell'associazione La Grangia Che accoglie stranieri E rifugiati Fino a oggi Oltre 1300 Rifugiati Che sono appunto Che provengono sempre Da situazioni critiche Appunto adesso Sta anche arrivando Qualche libico Qualche situazione nuova Insomma Negli ultimi Negli ultimi Proprio giorni E arriva il cardinale Accolto con un affetto grande Che lui ricambia in pieno Tra la testimonianza Di alcuni cattolici Giapponesi Che parlano Del recente terremoto Nella loro terra Con canti Valli tipici Come ad esempio Quello di ragazze Tutte originarie Dello Sri Lanka Ma di diverse religioni Con i peruviani Della confraternita Del signor De Los Milagros Che gli consegnano Una carta di intenti Poi i ragazzi Che hanno vinto Il mondialito di calcio Promosso per l'occasione Tutto Tutti insieme E il pensiero Il pensiero dell'arcivescovo Va a Papa Benedetto XVI Che a sua volta Accogliendo i romi In questi giorni Aveva citato Paolo VI Mi sono chiesto Ma perché il Papa Ha usato questa parola Ha detto Che i romi Migranti Sono nel cuore Della Chiesa La mia risposta È stata questa Sono nel cuore Della Chiesa Perché innanzitutto Sono nel cuore Sesso di Dio La sfida tuttavia Nota subito Tettamanzi È quella di passare Dal cuore di Dio E della Chiesa E al nostro stesso cuore Quando uno Ha un cuore grande Non può limitarsi A fare delle cose Misere Meschine Piccole Ma Ha la forza Dentro di sé Donata dallo Spirito Santo Per compiere Cose grandi Infine Si prega Con il Vangelo E il Corano In questo luogo antico Che parla da sempre Di civiltà Fede E di accoglienza Mi hanno portato Dal Congo Fin qui in Italia Per portare Scambio culturale Quindi mi trovo bene Quindi insomma Ti ha portato un po' La Chiesa Ambrosiana Qui in Italia Certo 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 Quello veramente Lo dico sempre Che sono orgoglioso Proprio Che è della Chiesa Che mi ha portato Qui a fare Questa esperienza E non voglio stare Lontano dalla Chiesa Perché devo essere Riconoscente Per quello che Mi ha fatto La Chiesa Ambrosiana Avete visto L'Arcivescovo In queste immagini E in queste parole Bene Permetteteci ora Una riflessione Seria Importante È mia Ma riguarda Tanti di coloro Che sono amici Della Chiesa Nella città Che avete visto Nelle interviste In questi mesi In questi anni Ascoltiamo appunto Questa nostra riflessione Un grazie Un grazie che è molto di più Di una parola Per quanto piena Di significato E condivisa Che va oltre L'apprezzamento sincero Per il suo episcopato Che forse Non riesce nemmeno A spiegare per intero La riconoscenza Verso il cardinale Tettamanzi Segnata com'è Dalla tristezza Per gli attacchi giornalistici Insulsi e ingiusti Giunti in questi giorni Al suo ministero Ambrosiano E allora Sono in tanti Di diverse estrazioni Convenzioni I ruoli A volerlo dire Con chiarezza Quel grazie Per anni costruttivi Che guardano Con coraggio al futuro Per l'esempio Di serenità Anzitutto Di affidamento Al Signore Comunque Con il coraggio Della verità E della denuncia Anche scomoda Quando era necessario Come scrivono In un proprio documento L'aggiunte Tutti i consiglieri Del consiglio pastorale Diocesano Che riunisce Sacerdoti Religiosi e religiose Laiche e laici Gli fa eco Il comunicato Delle Acli di Milano Firmato dal suo Presidente provinciale E se a prendere posizione Sono anche politici Di livello nazionale Di istituzioni locali Particolarmente significativa Appare la lettera Qui hanno aderito Già centinaia Di laici Intellettuali Personalità Di rilievo Del mondo cattolico E sociale Ambrosiano Ma anche Moltissimi semplici Cittadini A fronte di quelli Che vengono definiti Nel documento Pesanti e sgangherati Accusi al cardinale Se ne sottolinea Invece La qualità La misura La sostanza E le forme Di una guida Sulla cattedra Di Ambrogio Concreta E dal profilo Spirituale alto Peculiare E in questo Del tutto In linea e coerenza Con i grandi predecessori Quali Ferrari E Schuster Montini E Martini Basterebbe ricordare A tanti smemorati Che l'espressione Primavera Usata dal cardinal Tettamanzi Per Milano Allo stesso spirito E sapore Della primavera sociale Simbolo e obiettivo Di sobrietà E solidarietà Per il fondo Famiglia lavoro Fin qui Quello che volevamo Dirvi Però Mi piace Ricordare Che a oggi Sono già 300 I cittadini Semplici Che hanno firmato Questo documento Lo potrete trovare Ad esempio Sul sito ufficiale Dell'Azione Cattolica Azionecattolicamilano.it Ora è tutto Per la prima parte Del nostro programma Ma torneremo insieme Davvero con tante immagini E una piccola chicca Restate con noi Due minuti di pubblicità Ben ritrovati Con la chiesa Nella città Forse qualcuno di voi Avrà seguito In questi giorni Sui giornali La polemica Che ha riguardato Un oratorio In pieno centro A Milano Bene Ci è andato L'arcivesco Aprono gli oratori estivi Della diocesi di Milano Il cardinale Tettamanzi Visita per primo Quello della comunità Pastorale Santi Apostoli In centro a Milano In cui si trova La chiesa di Santa Maria Al Paradiso E' l'oratorio Che in questi giorni Ha occupato Le pagine dei giornali Perché è accusato Da alcuni cittadini Di corso di Porta Vicentina Dove si affaccia Al campo di calcetto Di essere troppo rumoroso La visita era decisa Da tempo Si fa sapere Ma certo assume Una luce diversa Quest'anno Ho voluto cominciare Da un oratorio Che è piccolo Ma è bello Ed è importante Ed è necessario Se non è un luogo di gioia Che oratorio è mai Il vostro E tutti gli altri oratori Accanto al cardinale Naturalmente Con 90 bimbi Che frequentano La struttura oratoriana Anche Don Claudio Nora Il comune ha Innanzitutto Emesso un'ordinanza Nella quale Veniva interdetto Ogni attività Ricreativa E sportiva Sul campo dell'oratorio A questa ordinanza La parrocchia Ha opposto Un'istanza Di autotutela E il comune Ha già sospeso L'efficacia Di quella prima ordinanza Insomma La vicenda Non è risolta Ma la conciliazione Tra le parti È ormai un fatto Anche perché L'oratorio È frequentato Dalle 15.30 Alle 20 E fino alle 22 Solo due sere a settimana Ma io dico Che c'è un diritto Secondo me Prevalente Dei bambini Di giocare E questo è un dato Sostanziale Francamente Non siamo A livello Delle colonne Di San Lorenzo Dove troveremo Trovare delle soluzioni Molto più adeguate Contemperare Le esigenze Ovviamente Di chi abita Nel centro E le esigenze Dei ragazzi Che peraltro Anche essi Abitano Nel centro Voi avete vicino Voi avete vicino Anche una struttura Ospedaliera Vi sono giunte Lamentele No Posso Per quello che ricordo Io non ci sono state Sollecitazioni Di questa natura Quindi Milano Non è intollerante No Non è intollerante Dobbiamo vigilare Perché non lo diventiamo noi Non diventiamo intolleranti Raccogliamo un po' Questa sfida Ancora per noi Una segnalazione Che riguarda La beatificazione Del 26 giugno Perché giovedì 23 giugno Alle ore 12 Presso il salone Della Curia Arcivescovile Di Milano In piazza Fontana 2 Si terrà la conferenza Stampa di presentazione Della beatificazione Di Don Serafino Morazzone Suore Enrichetta Alfieri E padre Clemente Vismara Alla presenza Del cardinale E allora Noi parliamo proprio Adesso Di padre Clemente Vismara Che era nato Ad Agrate E allora In questi giorni Un incontro Lo ha ricordato E noi naturalmente C'eravamo La fede Il ritorno ad essa La conversione Semplicemente Il ritrovarla In fondo al cuore Dove era rimasta nascosta Sono anche questione Talvolta Di uno sguardo Una carezza Una parola Come fu Per Giovanni Paolo II E tanti fedeli Che lo poterono Avvicinare o ascoltare Lo racconta Il vaticanista Luigi Accattoli Parlando Appunto Del beato Papa E lo fa Accanto a lui Il direttore Del mensile Del Pime Mondo e Missione Gerola Mufazzini Per parlare Anche di un altro Beato O meglio Che lo sarà Il 26 giugno Padre Clemente Vismara L'incontro 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 che si svolge Al Teatro Duse Di Agrate Brianza Paese natale Di Vismara Nel giorno Che ne ricorda La morte Promosso dalla parrocchia Inaugula L'inizio Dell'anno Vismariano Dedicato A questo padre Del Pime Chiamato Il Patriarca Della Birmania Per la generosa opera Di missionario Profusa per tutta La sua operosa vita Un denominatore comune Che può radunare Le due figure È sicuramente L'attenzione educativa La passione educativa L'amore per i giovani E la voglia Di dare ideali Grandi ai giovani Grandi come la santità Appunto E allora Le parole dei due beati Si incrociano Nelle pagine lette Nelle voci Dei due relatori Anche nella dolcezza Della musica Il papa di fama planetaria E il missionario Che scriveva Con l'Irania Che gli era propria Nel raggio di cento chilometri Qui in Birmania Per vedere un cristiano Devo guardarmi allo specchio Ma tutti e due Avevano lo sguardo Capace di guardare lontano Di andare in alto Di non avere paura E per questo La chiese Tante donne Uomini Semplici e umili Li onorano Potremmo dire Un'esemplificazione Di questa tensione missionaria Appunto Che troviamo Nelle encicliche del papa Nei viaggi del papa Giovanni Paolo II Padre Clemente Vismar La troviamo declinata Nel concreto Di una situazione locale E di una vocazione Molto particolare Continuiamo allora Con le informazioni Proprio per la beatificazione Perché sabato 25 giugno Alle ore 21 In contemporanea Si svolgeranno Le tre veglie di preghiera Per i tre Nuovi beati Per Milano Per quanto riguarda Suona Enrichetta Alfieri Nella basilica Di Sant'Ambrogio Presieduta da Monsignor Erminio De Scalzi Che è Vescovo ausiliare Vicario episcopale Appunto di Milano Per Don Serafino Morazzone Nella basilica San Nicolò di Lecco Presieduta dal vicario generale Carlo Maria Redaelli E per quanto riguarda Clemente Vismara Ad Agrate Brianza Non poteva essere diversamente Nella chiesa di Sant'Eusebio La veglia Verrà presieduta Da Monsignor Luigi Stucchi Vescovo ausiliare Vicario episcopale Di zona 2 Varese E ora Continuiamo ancora Con i Beati Perché Parliamo In questo momento Di Don Serafino Morazzone E di Alessandro Manzoni Cosa li lega? Lo raccontiamo Proprio da un luogo Molto nascosto E un po' magico La Casa Manzoni A Milano Vediamo Professor Gaspari Il Fermo e Lucia Ha una pagina Dedicata Al Beato Parroco Di Chiuso Di che cosa si tratta? È una pagina Nella quale Il Parroco Viene anche Nominato esplicitamente E Manzoni Lo presenta Come un esempio Modello di virtù cristiana A confronto Con Don Abbondio Siamo Nel terzo tomo Dell'opera È il momento In cui È avvenuta La conversione Dell'innominato E bisogna In qualche modo Affidare Lucia Le cure Di un personaggio Che dimostri anche Una qualità superiore A quella di Don Abbondio Mentre il cardinale Convoca i curati Ecco che compare Il Parroco di Chiuso Ed è anche un vistoso Anacronismo Perché il Parroco di Chiuso Muore nell'aprile Del 1822 E il romanzo È ambientato invece Siamo nel 1629 Quando avviene Questo fatto Ecco quindi Che siamo di fronte A uno dei casi rari Forse uno dei casi Credo che rappresenti In sé una vistosa eccezione In cui Manzoni Realizza Proprio Un errore Un falso storico Naturalmente In maniera volontaria Perché poi scompare La figura Del beato Parroco di Chiuso Quello che possiamo Pensare È che Manzoni Dalla Sua giovinezza Passata Intorno a Lecco Nelle comunità Del territorio Della Valsassina Eccetera Fosse entrato sicuramente In contatto Direttamente col curato Con qualcuno Che lo conosceva Quindi ne avesse notizia Abbiamo una lettera Del resto Del curato A Manzoni Del 1811 In cui Manzoni Viene pregato Di un favore Di un favore Che è praticamente Una carità cristiana Quindi mostra Che c'era consuetudine Tra la conoscenza diretta È documentata Anche attraverso La lettera Se non per altro Quindi per Manzoni Quello era Un curato santo Sicuramente Nell'aprile Del 1822 Il curato Muore Manzoni Ha la notizia E Manzoni Probabilmente È arrivato A questo punto Della stesura Del romanzo Ed ecco quindi Che gli viene in mente Di realizzare Questo anacronismo Quando scopre Che l'anacronismo È pesante Ci sono stati Dei lettori Del romanzo Che hanno anche Postillato Dando i loro Pareri Di lettura Ecco che diranno Che questo discorso Tiene fino a un certo punto È della ragione Per cui Manzoni Probabilmente Lo toglie Dalla edizione Definitiva Lei ha citato Una lettera Del 1811 Don Serafino Don Serafino Morazzone Quando scrive Questa lettera A Alessandro Manzoni La indirizza Al Caleotto E la proprietà E la proprietà E la proprietà E la proprietà Dei Manzoni Positiva Credo Dunque appuntamento E di un breve commento Che da questa settimana È affidato a Don Roberto D'Avanzo Direttore di Caritas Ambrosiana In quel tempo Il Signore Gesù Disse ai Suoi discepoli Molte cose Ho ancora da dirvi Ma per il momento Non siete capaci Di portarne il peso Quando verrà Lui Lo Spirito Della verità Vi guiderà Tutta la verità Perché non parlerà Da se stesso Ma dirà Tutto ciò Che avrà udito E vi annuncerà Le cose future Egli mi glorificherà Perché prenderà Da quel che è mio E ve lo annuncerà Tutto quello Che il Padre possiede È mio Per questo Ho detto Che prenderà Da me Quel che è mio E ve lo annuncerà Il mistero della Trinità È mistero Sempre complesso Per noi cristiani La parola di Dio stessa Il Vangelo stesso Che abbiamo Oggi ascoltato Ci mette di fronte A un modo originale Di essere unico Da parte del Dio Dei cristiani È vero che i cristiani Sono monoteisti Ma il nostro monoteismo Il nostro credere A un Dio solo È diverso Rispetto a quello Ebraico A quello islamico Il Dio dei cristiani Lo chiamiamo Con questa parola complessa Trinità Triunità Che dice sostanzialmente Che Dio Lo dobbiamo pensare Lo possiamo pensare Solo come Comunione Come comunità Come insieme Di diversi Che si vogliono Talmente bene Da essere una cosa sola E allora Questo Dio Trinità Dice anche Quello che è Il destino dell'uomo Dice l'identità Dell'uomo L'uomo non può Che pensarsi In relazione A chi è diverso Da sé L'uomo non può Definire se stesso Se non Nella fatica Di accogliere Incontrare L'altro Considerandolo Appunto Addirittura Come colui Che mi permette Di capire Chi sono Il Dio Trinitario Dice Che l'esperienza Della comunità Fa parte Del DNA Profondo Di ogni uomo Che ogni Prospettiva Individualistica Del modo Di pensare All'uomo È assolutamente La negazione Dell'umanità Questo è Il significato Profondo E straordinario Di un Dio Che appunto È famiglia Di un Dio Che è comunione Di diversi Di un Dio Che ci Affida Una Responsabilità Straordinaria Quella Di essere Sua immagine Quella di Costruirci Come modalità Originale Di stare insieme Tra persone Differenti Stare insieme Anche nella Solidarietà E allora Voglio informarvi Che il fondo Famiglia Lavoro Ha raggiunto La cifra Di 12 milioni 346 mila euro E le contribuzioni Dei privati Sono salite A 5.851 Bene Ora è davvero Tutto Per questa Nostra puntata Noi torneremo Giovedì prossimo Alle 18.30 E poi con le repliche Vi segnalo Quelle della domenica Su Tele Nova 2 Alle ore 9 E alle ore 13 Grazie per averci seguito Il mio saluto più caro Davvero A ognuna di voi A ognuna di voi A ognuna di voi